Start, 2, 1, initial mission and liftoff! Costa 9,99€ anziché 19,99€. Premesso che 19,99€ è un prezzaccio comunque, anche a prezzo pieno per quello che ha da offrire questo gioco. È un gioco di sopravvivenza che si adatta benissimo al gioco in solo, si adatta benissimo al gioco in cooperativa con uno o più amici e si adatta perfettamente anche all'affitto di 4€ al mese di server di nitrado ad esempio per il gioco persistente sempre con amici. È un gioco che ha un pianeta enorme iniziale con diverse fazioni, tantissimi depositi da scavare, basi da sconfiggere, avversari da abbattere, al tempo stesso con un ottimo sistema solare da esplorare e negli ultimi anni, negli ultimi due anni, con l'aggiunta anche di una galassia, quindi diversi tantissimi sistemi solari da esplorare con sempre appunto quelle fazioni che potete, tra l'altro con le nuove aggiunte sono state aggiunte un casino di fazioni, quindi il gioco come lo ricordo io non esiste più. Ora vedete qui che non sono messo proprio benissimo perché sto morendo di fame e a breve morirò. Vi voglio far vedere quello che succede. Ecco adesso io sono morto, quindi ripartirò da qui. Ho ricaricato una partita di praticamente gennaio 2021, quindi due anni fa e vi voglio far vedere quella che era la base ai tempi e poi voglio farvi vedere come inizia il gioco. Allora vedete che questa è la base? È una base pre-costruita perché quando voi vi mettete a costruire potete optare per due, anzi tre scelte. Allora, una, l'import di una base dal workshop, potete costruirla voi a renderla un progetto o usare una delle basi presenti nel gioco. Ora non ricordo dove sono, ecco vedete qui, potete costruire le vostre navicelle veloci per il volo, diciamo, interplanetario, le navi grosse per il viaggio tra un sistema e l'altro, gli overcraft per fluttuare sul terreno e appunto le basi. Ce ne sono tantissime, tante autonome a livello energetico, coi pannelli solari e in questo caso io ho piazzato all'interno il costruttore grazie al quale posso costruire tutte le mie cose. Ci sono costruttori di vari livelli, i container da cui attingono appunto i costruttori, gli ascensori, io non mi ricordo niente di questa base ma ho fatto una zona sotterranea dove potete andare anche a scavare o piazzare delle tre livelle che quelle scavano praticamente all'infinito quasi, potete determinare i parametri di questa cosa dall'impostazione della partita, ma al tempo stesso potete anche decidere di non fare una base di questo tipo ma farla all'interno di una montagna perché se i droni della fazione nemica vi beccano vi attaccheranno regolarmente e quindi farvi una base all'interno della montagna può essere molto molto utile. Tra l'altro questa è una nave di quelle già pre costruite, già ottimizzate, dovrebbe avere già tutto all'interno, anche un piccolo frigo per tenere all'interno gli alimenti e possiamo andare a attivare la nostra nave, accenderla e poi partire. Adesso dovrebbe esserci il tastino per l'avvio. Tra l'altro vedete che all'interno ha già le mitagliatrici, ha un sensore per i minerali e no, mi sa che non ha carburante sta nave e vedete che ha appunto i propulsori davanti, dietro, di lato in modo da consentirvi tutto lo spostamento necessario. Allora, potete poi andare a vedere anche in terza persona e potete andare anche a gestirvi tutti quelli che sono i vostri parametri della nave. In pratica, impostargli il consumo eccetera. Ok, l'abbiamo accesa con la Ypsilon. No, no, aveva carburante. Perfetto, possiamo decollare, possiamo uscire dal pianeta o addirittura andare a... Non abbiamo munizioni. Vedete? E viaggiare e vedere il vostro pianeta. Magari avete un amico, degli amici là in fondo su quell'isola che stanno scavando li potete andare a recuperare o caricare le loro merci. Potete appunto vagare lungo questo pianeta e inclinarvi. Insomma, potete fare veramente quello che volete. È un gioco che dà anche una discreta soddisfazione perché l'inizio è senz'altro tosto. Adesso stavo perdendomi la base che è qua sotto. Vedete? Posso andare a riatterrare. Qua gli ho piazzato anche una piattaforma di difesa. Nel mentre voi scendete potete andare appunto a vederla in terza persona atterrare e il carrello vedete scende in automatico e vi consente l'atterraggio. Quindi io adesso spengo la nave ed esco. Potete costruire delle navi enormi una morte nera dimensione scala 1 a 1 piuttosto che una nave grossa come un Enterprise di Star Trek e attraccare all'interno con la vostra nave. Ma vi voglio far vedere l'inizio di una partita. Potete iniziarla sia in co-op che in singolo. In realtà poi potete shiftare da uno all'altro quindi la vostra partita potete condividerla con amici e senz'altro rispetto a due anni fa sono cambiate tante cose. Primo il livello di difficoltà che potete selezionare e vi consiglio di giocare ad almeno un livello medio perché è molto bello il poter diciamo sopravvivere se è tutto facile vi annoiate e i pianeti iniziali sono diversi adesso sono più di quelli che erano qualche anno fa da Acqua che è una interpretazione della Terra Ningues che è un pianeta ghiacciato su cui comunque è possibile respirare seppur con una temperatura quasi proibitiva quindi dovete farvi un rifugio subito avete Schilong che è un deserto con un ossigeno comunque buono una gravità leggermente inferiore alla Terra questo è un pianeta di palude aliena sempre anch'esso respirabile partire da lo spazio con una vostra nave oppure appunto noi iniziamo da questo nulla vi vieta poi di costruire magari una stazione stellare e attaccare con le vostre navi amministrare tutto la figata è che potete mettere gli generatori di ossigeno le ventole che poi diffondono l'ossigeno lungo tutta la base così come anche il generatore di gravità quindi tutto vi farà diciamo sentire a casa quando sarete appunto all'interno della vostra della vostra nave l'inizio è sempre uguale si precipita con questa capsula e si deve sopravvivere dapprima costruendo un costruttore molto semplice insomma che non ha bisogno neanche di alimentazione che è cambiato tanto rispetto al passato il fatto di avere l'italiano e di avere il tutorial e soprattutto di avere anche le missioni e le quest vi avevo già fatto un video ma è più di due anni che non ne faccio su questo video quindi su questo gioco quindi volevo un pochino presentarvelo calcolate che graficamente è migliorato tantissimo ed è un gioco come dico sempre già bello quando non aveva la vegetazione e neppure gli alberi ora è diventato veramente spettacolare e se volete farvi davvero un regalo a 10 euro è un qualcosa su cui io non penserei minimamente perché è figo non avete amici con cui giocarci non c'è alcun tipo di problema perché il gioco vi dà da giocare ovviamente è bello condividere una nave una costruzione con un amico ma sarete impegnati a sopravvivere ad assaltare basi aliene a morire a nastro e a ripartire cercando di recuperare l'equipaggiamento che avete perso craftare i vostri fucili le vostre cose tante cose da imparare ho fatto diversi video io sul gioco ci sono anche diverse live anche in compagnia di Mirko il pianeta enorme ci metterete veramente tanti minuti passare da una zona all'altra esplorando quando avete l'overcraft ce ne metterete ancora meno con la nave poi inizierete a volare si aprirà un altro gioco ancora potrete attivare craftandovi l'armatura il jetpack e quindi viaggiare anche in verticale lungo le rocce potrete farvi la vostra base all'interno di una foresta all'interno di una parterina e vedrete in giro vagare anche le diverse fazioni che scoprirete lungo il vostro cammino su questo primo pianeta stesse fazioni che sono presenti anche su altri pianeti tra l'altro se non ho visto male le fazioni sono molte 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 di più di quelle che erano una volta qua avete le missioni le quest ci sono poi le fazioni e calcolate che una volta erano 4 fazioni guardate quante ce ne sono adesso fate reputazione punti di reputazione con loro e quindi potete commerciare con loro c'è una sorta di banco ma tra cui potete comunque depositare e spendere soldi avete l'albero tecnologico che si divide tra la vostra base la crafting base la nave capital quindi la nave grossa il vascello quello più piccolino il vascello attracca all'interno della base capitale della nave capitale l'overcraft le varie che sono i kit di costruzione gli ascensori i campi di forza le scavatrici automatiche passando per gli strumenti che vanno dalle motoseghe gli strumenti per colorare dipingere insomma che è molto utile per creare delle belle basi fino alle armi che si va dal fucile d'assalto quindi armi cinetiche i fucili e impulsi laser minigun i mitra i fucili di precisione lancia razzi lancia cannone a plasma insomma le carabine laser fino alle cariche esplosive e le varie armature e qua vedete che i livelli salgono dovrete fare magari qualche esperimento se giocate da soli per dare la giusta proporzione al moltiplicatore al moltiplicatore di esperienza ingiusto per non soffrire eccessivamente da soli ma potete fare veramente veramente tutto perché avrete bisogno di coltivare per non morire di fame avete bisogno di medicine quando verrete avvelenati dai nemici avete bisogno di energia elettrica per alimentare la base quello lo potete fare sia a livello di bruciatori di minerale sia a livello di impianti solari quindi da fare ce n'è e dovrete anche trovare un modo di produrre il carburante per le vostre navi sia le navi piccole che le navi grosse avete anche materiale radioattivo quindi dovete fare delle camere stagne all'interno delle vostre navi e dovrete appunto sopravvivere lo spazio è veramente interessante perché quando lascerete il pianeta entrerete nello spazio dovete avere una tuta abbastanza rinforzata per permettervi di resistere al freddo che c'è nello spazio quando scaverete magari qualche asteroide da soli e lì ci sono tutti i potenziamenti che si sbloccano con appunto l'esplorazione dei vari menu di gioco e potrete potenziare la vostra tuta spaziale per magari le radiazioni piuttosto che il calore per i pianeti più diciamo caldi sia per il freddo e le radiazioni per lo spazio quindi un'infinità di cose da fare io vi dico ho passato 211 ore su questo titolo e vi dico la verità mi sono divertito tantissimo sin quando il gioco non aveva nulla mi sono divertito quando il gioco aveva tanto ma onestamente ora ricomincierei da capo perché sono passati due anni il gioco è stato portato avanti tantissimo e dopo 211 ore sarà ancora come ricominciare da zero ma onestamente non vedo l'ora magari lo porteremo anche in live non lo so per intanto vi chiedo che cosa ne pensate voi e io ve lo consiglio assolutamente ricordo chi di voi non ha ancora partecipato al sondaggione per eleggere gli indie awards di quest'anno c'è un link che vi lascio qua sotto in descrizione per votare ci vuole meno di 5 minuti scegliete i vostri titoli insomma ci sono i flag da mettere confermate e votate e vi chiedo anche che cosa ne pensate di questo titolo lo state giocando non l'avete mai smesso di giocare avete intenzione di giocarlo questa allora che ha questo prezzo dopo questo video magari fatemi sapere alla prossima e ciao ciao